Va ora in onda, pianeta oggi e venti nel mondo. Conduce in studio Massimo Bonella. In onda tutti i giovedì dalle 20 e 30 su Radio Piper. Buonasera, benvenuti al nostro consuetto settimanale di approfondimento pianeta oggi e venti nel mondo. Trasmissione che va in onda in collaborazione diretta con l'emittente online o meglio il network perché poi ci sono altre radio online di taglio locale sparse a macchia di lopardo per tutta l'Italia che sono praticamente collegate con quella che è appunto la regia centrale a Treviso di Radio Siles. Saluto alla regia Rosario Moreno e Ugo Moreno, anzi le due regie Treviso e Modena e naturalmente quella che è la regia potremmo definire, anzi sottolineare, veramente centrale qui a Fontana Fredda di Paolo Gavasso che grazie a lui riusciamo a realizzare questa trasmissione e andare in onda altrimenti sarestimo qui a parlare tra di noi al muro e non è che sia proprio il caso. Allora un saluto quindi in particolare anche al nostro Paolo, ringrazio naturalmente tutti gli ascoltatori che ci hanno fatto anche dei complimenti a questa trasmissione perché tratta un'informazione alternativa che normalmente non si sente in altre emittenti, soprattutto in quelle di diffusione nazionale. A proposito di ringraziamenti, ecco il doveroso naturalmente ringraziamento alla direzione di Radio Siles che grazie a loro questa nostra trasmissione viene ripetuta nel loro network e quindi probabilmente ci riconoscono sempre nuovi ascoltatori. Ecco una trasmissione pianeta oggi e venti nel mondo che nasce qui da Fontana Fredda, dalla storica emittente Radio Piper che modula sui 93.8, 88 e 800 MHz in stereofonia per tutto l'alto Adriatico. Un saluto anche ai nuovi ascoltatori che ci seguono adesso, un po' come era una volta, sui 93.8 precisamente gli ascoltatori di Mestre Venezia, la Malcontenta e anche oltre perché il segnale poi arriva fino a Chioggia Sottomarina. Quindi benvenuti anche in questa, oltre che in tutte le trasmissioni di Radio Piper, ma anche in questa nostra trasmissione di approfondimento giornalistico. Nell'altro studio abbiamo Aldiano Appi che è dell'associazione culturale Il Sicomoro. Il sicomoro.com, il sito internet per maggiori approfondimenti, se volete vedere un po' quelle che sono le iniziative della importante associazione, presente nel territorio friulano dal 98. Abbiamo dunque, dicevo, Alviano Appi con un ospite molto importante che è anche lui collegato via Skype, quindi io darei subito la parola ad Alviano e noi ci sentiamo a metà trasmissione. Prego Alviano. Grazie Massimo e buonasera a tutti i nostri radioascoltatori. Questa sera abbiamo in linea, possiamo parlare con Pier Giorgio Caria, documentarista, studiore, approfonditamente, come i cerchi nel grano, l'ufologia, le costruzioni megalitiche e anche temi di carattere mistico spirituale. Diciamo che sono tematiche che un po' la nostra scienza, la nostra informazione, tiene un po' in periferia. Lui invece le approfondisce molto, la sua forza sta nella grande quantità, secondo me, di documenti, testimonianze sui temi sopraccitati che riesce a reperire e a mettere a confronto. Pier Giorgio Caria ha, secondo me, anche l'abilità, una grande serietà di metodo. Queste due cose gli sono valse, sia riconoscimenti internazionali, che la diffusione dei suoi documentari in Italia, nelle maggiori TV, ma anche nel mondo. Ed è per questo che siamo particolarmente contenti di poter presentare le sue riflessioni a chi ci ascolta. Il tema che tratteremo questa sera è il compimento del centenario della profezia di Fatima. Oggi siamo il 10 ottobre, il 13 ottobre scadranno 100 anni dalla profezia di Fatima. Allora, con Pier Giorgio cerchiamo di approfondire questo tema che ci tocca un contatto con una dimensione superiore che parla a questa umanità che naviga in acque molto difficili. Intanto, Pier Giorgio, molte grazie per essere qui con noi questa sera. Grazie a te, Aldiano. Allora, la prima domanda, il Fatima, il cosiddetto segreto di Fatima, è costituito da tre segreti in realtà. Io vorrei che prima tu velocemente accennassi ai primi due, facessi un quadro dei primi due e dopo approfondiamo meglio il terzo. Sì, i primi due segreti in realtà non sono più segreti, sono due messaggi, erano due messaggi profetici. Principalmente il primo riguardava la fine della prima guerra mondiale e il secondo riguardava un segno che la Madonna disse ci sarebbe stato, un segno particolare che avrebbe preannunciato se l'uomo non avesse cambiato attitudine nel suo sistema di vita, questa attitudine dell'uomo avrebbe causato una seconda guerra mondiale ancora più feroce, ancora più sanguinosa della precedente. Il segno ci fu pochi anni prima dello scoppio della seconda guerra mondiale, quindi queste due profezie si sono realizzate. Poi lì c'erano nell'ambito di queste profezie anche delle visioni dell'inferno, dei bambini, però nel senso profetico più profondo, quindi di anticipazione di eventi futuri. La Madonna profetizza, la ribadisco, essendo l'apparizione iniziata a maggio del 17, quindi con la prima guerra mondiale in atto, profetizza la fine della prima guerra mondiale e ribadisco, se non ci fosse stato un cambio nel modo di vivere dell'umanità che offende le leggi divine, ci sarebbe stata, in quanto punizione di Dio, ma la dobbiamo intendere come ritorno della legge di causa ed effetto, ci sarebbe stata la seconda guerra mondiale, scome tutta fatto l'umanità, tranne che cambiare attitudine, ha solo peggiorato, per cui le due profezie si sono realizzate. La prima positiva perché la guerra mondiale è finita poco tempo dopo, la seconda tremenda perché poi ci fu una specie di grandissima luce, una specie di aurora boreale, particolare, infatti Lucia Dos Santos disse che questo è il segno che la Madonna mi ha profetizzato e pochi anni dopo scoppiò la seconda guerra mondiale. Quindi questi due segreti non sono segreti già da tanto tempo. prima di entrare nel terzo segreto sappiamo che il 13 di ottobre di 100 anni fa praticamente ci fu un grande, quello che è stato definito un grande miracolo, le persone al tempo avevano chiesto ai pastorelli, a Lucia in modo particolare, che la Vergine, i pastorelli stessi, che la Vergine facessi un segno perché loro potessero essere creduti e la Vergine lo fa, dal punto di vista per chi ci ascolta anche, capire veramente, ma sono fantasie o dal punto di vista prettamente fisico? Che cosa è successo il 13 di ottobre del 1917? Che fenomeni fisici hanno potuto ammirare circa 70 mila persone a quei tempi tra giornalisti, ecclesiastici, medici, eccetera? Sì, intanto contestualizziamo a livello sociale e politico la situazione che c'era all'epoca, di fatto al governo del Portogallo era andato un governo ateo-massone, quindi si erano ingenerate fortissime persecuzioni contro la Chiesa e il clero e le istituzioni in quei mesi osteggiarono fortemente le apparizioni, accusando i bambini di essere solo degli agitatori sociali che si erano inventati tutto e così via, perché appunto essendo un governo di tipo ateo le cose religiose erano viste come inganni. Per cui quando nella data in cui i pastorelli dicono che la Madonna sarebbe apparsa e avrebbe dato un segno, si recano nella cova dei Ria, il luogo dove appunto avvenivano le apparizioni, si reca a tantissima gente, tra i quali c'erano tantissimi fedeli, indubbiamente perché non è che per un fatto politico la gente poi perde la fede o l'amore verso Cristo. Ma vi erano anche tantissimi atei, tantissimi giornalisti in via corsi per dileggiare e mettere in ridicolo le apparizioni che secondo loro non erano assolutamente vere. Era una giornata molto piovosa, quindi la spianata della cova dei Ria era di fatto diventata un'immensa pozzanghera di fango e le decine di migliaia, come hai detto tu, di persone lì convenute circa 70 mila erano inzuppate e fradice. A un certo punto mentre i bambini hanno l'estasi, quindi vedono la Madonna, la Madonna dice di guardare il cielo e improvvisamente avviene un fatto clamoroso, cioè praticamente la gente vede come se il sole si staccasse dal cielo e incominciasse a ruotare su se stesso diventando una specie di disco grigiastro da cui emaravano dei fiotti di luce multicolori, quasi una specie di arcobaleno in movimento. Quindi tutti rimasero allibiti e anche tantissima gente spaventata perché in certi momenti sembrava che l'astro muovendosi dal cielo cadesse sopra le persone. Ciò ovviamente non avvenne, ci sono varie foto scattate in quel momento dove si vede questa moltitudine fissare verso il cielo, alcuni si portano la mano alla fronte per ripararsi dalla luce, quindi cessa di piovere di fatto, ma la cosa più stupefacente non è solo il fatto che accade questo fenomeno fisico e che tutti possono vedere, è il fatto che in questi pochi istanti, in questi istanti in cui avviene il fenomeno, sia le persone e addirittura il suolo vengono completamente asciugati. Quindi un fenomeno fisico di enorme portata perché al di là dell'aspetto prettamente fenomenico di ciò che accade in cielo, vi è anche questo fenomeno particolarissimo che viene asciugata, vengono asciugati i corpi e i vestiti, gli abiti delle persone che erano fradici a causa della pioggia e anche il suolo. Quindi tutte quelle persone, giornalisti compresi, che si erano ricatti lì per dileggiare i pastorelli, rimangono scioccati e comprendono che in realtà lì qualcosa di veramente importante stava accadendo ed era accaduto. Sì, e viene chiamato anche come il miracolo dei due soli perché si vedono due dischi in cielo, uno è il sole e l'altro simile al sole ma che la gente addirittura poteva guardare ma senza essere accecata in qualche modo. Quindi questo grande, questo improvvisa asciugamento di tutto, tanto è vero che aveva piovuto abbondantemente già anche tutta la notte e non soltanto nella mattinata. Bene, quindi ecco questo per chi ci ascolta, fate bene. In realtà, scusami, una precisazione, non si sono visti due soli, si è visto un solo sole che si muoveva, cioè il disco è venuto così in avanti e quindi era così grande che di fatto era l'unica entità visibile nel cielo, solo che aveva questa apparenza grigiastra da cui scaturivano questi fiotti di luce ma il disco solare non è visibile. Addirittura c'è una foto che testimonia l'evento che fu pubblicata all'epoca dall'osservatore romano dove si vede proprio in cielo che è presente tra le nubi solo questo disco, solo un disco, quindi non ci sono stati due soli, ce n'è stato uno solo. Tra l'altro io anni fa recandomi al sud Italia per trovare una ragazza che era stata stigmatizzata ed era diventata veggente, l'ho visto con i miei occhi il fenomeno. Perché poi è accaduto in vari altri luoghi, l'ha visto ad esempio sopra i giardini Vaticano lo vide Papa Pio XII, quindi il fenomeno dopo si è ripetuto anche altre volte ed era sempre un disco, cioè il disco solare che a un certo punto si mette a fare delle cose bizzarre. Poi in realtà la ricerca ci ha detto che non era proprio il sole perché gli stessi autori del fenomeno che sono gli esseri angelici hanno spiegato in realtà di che cosa si trattava. Bene, adesso andiamo sul terzo segreto che è stato molto contestato e che ha avuto diversi piani di rivelazione. Tu ci puoi raccontare un attimo qual è questo terzo segreto e un po' con quali possono essere state le resistenze? Magari faccio un po' la storia perché la Madonna chiede ai veggenti, cioè dice ai veggenti che questo testo che lei dà il 13 di ottobre del 17 non doveva essere rivelato prima del 1960 e a rivelarlo doveva essere il pontefice, il papa. Quando arriva il momento della rivelazione, praticamente considerando anche che Lucia scrisse il testo negli anni 40, quindi già il Vaticano nei suoi archivi aveva il testo chiuso in una busta da qualche decennio, quando giunge il momento della pubblicazione, il papa era il papa Giovanni XXIII, il papa buono, il papa Roncalli. Cosa fa il papa? Apre questa busta, vi era presente il suo segretario personale, il monsignor Loris Capovilla, deceduto abbastanza di recente, vi era presente il cardinale Alfredo Ottaviani all'epoca segretario del Sant'Uffizio, vi era presente un altro prelato che parlava il portoghese che fu lui a fare la traduzione, morale della favola, quando viene letto il testo del messaggio il papa decide di non pubblicarlo, dice io non voglio prendere decisioni, rimettetelo nella busta e praticamente il papa fa una illazione a mio parere un po' sconveniente, fa tacere la Madonna. Non tanto questo, addirittura lui è come ha detto di fatto che questi bambini erano profetti di sventure, come se dei ragazzini, dei bambini come erano Lucia, Giacinta e Francesco potessero inventarsi cose così complicate, quindi il papa di fatto accusa la Madonna di essere catastrofista. Questo secondo me, secondo altri autori e analisti di questi eventi è perché il papa aveva in testa la riforma conciliare, concilio Vaticano II, lui sperava e pensava fortemente che grazie a questo consiglio la chiesa avrebbe avuto un periodo di espansione, un periodo positivo, per cui all'interno di questo suo progetto si inserisce una profezia terribile e il papa forse arrogantemente preferisce dare credito alle sue aspirazioni umane e rigetta il messaggio della Madonna accusandolo addirittura di catastrofismo. Quindi io metterei un po' in dubbio che il papa è ispirato sempre dallo spirito santo e sia infallibile, perché secondo me lì ha fatto un errore gravissimo, perché poi in realtà il concilio Vaticano II si è rivelato per la chiesa un vero e proprio disastro. Poi c'è una versione diplomatica però. Ci sto arrivando. Poi che succede? Il papa non rivela il segreto, lo fa chiudere in un cassetto e lascia ai suoi successori di prendere la decisione in merito, ma lui decide di non prendere questa decisione, di non pubblicare il segreto. Solo che praticamente poco tempo dopo accade esattamente pochi anni dopo, stiamo parlando nell'ottobre del 1962, si ha la crisi di Cuba, cioè gli Stati Uniti d'America scoprono grazie ai loro aerei spia che i sovietici stavano installando a Cuba dei silos di lancio, delle basi di lancio di missili atomici a ridosso delle coste americane. Vengono individuate dagli aerei spia delle navi che stavano attraversando l'Atlantico, navi sovietiche che portavano a bordo i missili nucleari. Per cui Kennedy chiama Khrushchev e gli dice se tu non ritiri queste navi, cioè non le fai tornare indietro, superato un certo limite che io ti do, un limite territoriale di una posizione nautica, se tu con le tue navi superi questa posizione, io attacco, cioè lancio io i missili nucleari. Quindi ci sono ore di enorme tensione a livello mondiale perché si sta rischiando lo scoprimento di una terza guerra mondiale nucleare. Siccome uno dei discorsi che vi sono all'interno del terzo segreto è proprio questo, ci sono importanti personaggi del Vaticano che si mettono paura e decidono, nonostante il Papa avesse preso la decisione che vi ho detto, decidono di stilare un testo ad uso diplomatico del terzo segreto. Che significa? Significa che i concetti contenuti nelle righe scritte da Lucia Dos Santos vengono estesi, vengono adattati ad uso diplomatico e che vengono spediti alle cancellerie di Stati Uniti, Gran Bretagna e Unione Sovietica. Per cui, praticamente poco tempo dopo, un giornalista tedesco di nome Heinrich scrive al cardinale Ottaviani che lui aveva avuto in mano, grazie a un'indiscrezione diplomatica, il testo del terzo segreto e chiede ad Ottaviani di poterlo pubblicare sul giornale che si chiamava all'epoca Nois Europa, che significa Notizia dell'Europa, un giornale tedesco di Stoccarda. Il cardinale Ottaviani autorizza Heinrich a pubblicare questo testo perché era stato proprio Ottaviani, Alfredo Ottaviani, il cardinale Alfredo Ottaviani a scriverlo. Quindi il Papa non ne voleva sapere, ma il prefetto del Sant'Uffizio decide, evidentemente credendo alla bontà della profezia fatta a Fatima, decide di autorizzare Heinrich alla pubblicazione di questo segreto nel giornale Nois Europa. Luis Heinrich, per essere esatti il nome di questo giornalista. Per cui è stato il cardinale Ottaviani a pubblicare questo, a permettere, a redigere e a permettere la pubblicazione di questo segreto. Quindi il giornale Nois Europa lo pubblica e di fatto ovviamente genere una grandissima attenzione a livello internazionale. Il Vaticano non l'ha mai smentito, il testo viene ripreso e pubblicato anche da varie riviste di carattere religioso e addirittura all'organo ufficiale della Santa Sede, l'Osservatorio Romano, il 15 ottobre del 1978, lo pubblicherà esso stesso. Quindi questo segreto, grazie a Heinrich e grazie a Alfredo Ottaviani, è conosciuto sin da allora. Chi lo volesse leggere lo può cercare sul web, basta che digitate terzo segreto di Fatima, versione diplomatica e ve lo potete leggere. Quali sono i punti? Non lo leggo tutto, però vi posso così brevemente enunciare i punti cardine del testo diplomatico. Certamente. Praticamente parla che il mondo nel futuro, se l'umanità, sempre questa clausola, se l'uomo non avesse cambiato attitudine nel suo modo di vivere, non nei suoi credo, questo è molto importante, ma attitudine nel suo modo di vivere, perché la Vergine non appare a persone di altre religioni, appare ai cattolico-cristiani, quindi sono i cattolico-cristiani che hanno una vita non conforme al Vangelo. E quindi chiede a noi il ravvedimento, che significa rivedere il nostro sistema di vita, non certo i nostri concetti religiosi. Quindi il testo diplomatico parla che il mondo nel futuro sarebbe stato dominato da Satana, che ci sarebbe stata una gravissima crisi all'interno della Chiesa, che ci sarebbero state terribili catastrofi naturali e sociali. La Madonna profetizza l'invenzione delle armi nucleari e anche, se le cose fossero ancora peggiorate, è anche una terza guerra mondiale nucleare. Profetizza la seconda venuta di suo figlio come giudice e infine profetizza che l'umanità non si autodistruggerà a causa di questi terribili eventi, ma che ci sarà, ci saranno gli eletti, ci saranno coloro che si salveranno perché hanno messo in pratica l'insegnamento evangelico e ci sarebbe stata l'instaurazione del regno di Dio sulla Terra. C'è un punto alviano, che poi successivamente noi abbiamo scoperto, non è stato, è stato omesso anche nella versione diplomatica. Ed è il punto in cui la Vergine profetizza la visita extraterrestre. E la frase che è stata tolta dalla versione diplomatica, cioè che non è stata messa, è questa qui. E in quel tempo, seconda metà del secolo XX, esseri cosmici verranno da lontani lidi dell'universo nel nome di Dio. Quindi la Vergine profetizza la visita extraterrestre indicando che la natura della visita extraterrestre non è assolutamente scientifica, non è assolutamente tecnologica, ma ha un carattere messianico, cioè è uno dei segni profetizzati e scatologici che indicano il tempo in cui sta per tornare Cristo. Quindi la visita extraterrestre ha carattere messianico, carattere profetico, carattere apocalittico nel senso di rivelazione. Ecco, ci è rimasto esattamente un minuto e in questo minuto, quindi all'umanità di oggi, se tu potessi sintetizzare l'appello che viene da questa dimensione superiore del cielo, qual è? Quello che noi da civiltà egoista e competitiva dobbiamo diventare una civiltà altruista e collaborativa, perché noi facciamo parte del sistema integrato pianeta terra e così come stiamo facendo, fino a oggi noi stiamo distruggendo il nostro mondo come se il mondo, il pianeta e noi fossimo due cose differenti. Noi al pianeta siamo una ed una sola cosa e l'uno senza l'altro non possiamo sopravvivere. Perfetto, guarda, io ti ringrazio dell'estrema chiarezza con la quale in un tempo certamente molto limitato abbiamo potuto approfondire il tema del segreto di Fatima e capire come se mi permetti Alviano, brevissimamente chi volessi a approfondire, anzi avremmo già dovuto cominciare da molto tempo. Alviano, scusami, mi senti? Alviano? Ti ho intorno sui tuoi riferimenti? Sì, volevo dire che nel mio canale YouTube PierGiorgio Caria 59 vi sono varie conferenze dove io tratto in maniera abbastanza approfondita questo discorso, quindi chi fosse interessato a saperne di più vada nel mio canale PierGiorgio Caria 59 e troverà conferenze che durano anche ore dove parlo di questo argomento. Benissimo, allora ti salutiamo, ti ringraziamo di nuovo, anch'io saluto i radioascoltatori e passo la linea alla regia a Massimo Bonella. Grazie a voi Alviano, un caro abbraccio a tutti. Sì, grazie Alviano, giusto per chiudere la trasmissione, ricordo solo che spero di riavere ancora, ecco, per Giorgio Caria nostro ospite, magari parleremo, Pier, dei astronauti se effettivamente sono andati sulla Luna perché ci sono sempre queste notizie che girano, soprattutto molti video, molti filmati su YouTube, non si capisce se sono delle cosiddette fake news o se effettivamente è vero, ecco, ma magari su questo ci diamo appuntamento su una puntata a parte. D'accordo Pier, basta che mi dici sì o no? Non so se sia ancora collegato o no, mi sa di no. Allora, è una promessa che faccio ai nostri ascoltatori perché ci sono stati chi mi ha chiesto questo, Radio Piper, dunque, 938, 88, 800 MHz, in FM Stereo da Venezia a Trieste, un emittente che è praticamente un emittente storico che trasmette in collaborazione, questo programma lo trasmette in collaborazione con Radio Science di Treviso, ringrazio appunto il personale dell'emittente online che grazie a loro questo nostro programma viene fatto ascoltare da sempre più ascoltatori. Io ringrazio anche voi, gentili signore e signori che ci avete seguito, appuntamento come sempre la prossima settimana, da Massimo Bonella, l'augurio di un buon proseguimento con le trasmissioni di Radio Piper. Avete ascoltato Pianeta Oggi, eventi nel mondo, a cura di Massimo Bonella, in onda tutti i giovedì dalle 20.30 su Radio Piper. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.